Essere all'altezza di un evento di portata storica, Firenze si prepara ad ospitare l'incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo promosso dalla CEI. In arrivo dal 23 al 27 febbraio, i vescovi delle chiese affacciate sul Grande Mare, in rappresentanza di tre continenti, Europa, Asia e Africa. Un laboratorio di dialogo e pace che sarà aperto dal Premier Mario Draghi e si chiuderà con la visita di Papa Francesco, oltre all'arrivo a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ce la stiamo mettendo tutta perché la scommessa che abbiamo deciso di fare come città, come amministrazione, come Fiorentini, sia all'altezza di quella che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, e anche il nostro impegno, la nostra responsabilità di una città che certamente è abituata a essere al centro del mondo e con questo convegno lo sarà. Al centro dell'incontro, ispirato alle intuizioni del profeta di pace, Giorgio Lapira, il tema della cittadinanza alletta alla luce della fraternità tra i popoli, in un'area segnata anche da guerre, persecuzioni ed emigrazione. Si avvera, credo, anche un grande sogno di Giorgio Lapira, quello di avere insieme riuniti, lui che era un grande uomo di fede, oltre che essere un grande sindaco, avere insieme riuniti i sindaci delle città del Mediterraneo con i vescovi della cattolicità del Mediterraneo. Assieme ai vescovi arriveranno a Firenze i sindaci delle città del Mediterraneo per un forum parallelo. Grazie.